Quella che vedete alle mie spalle è la galleria Serre sulla statale 6,50 Trignina tra Pesca e Sessano del Molise. A partire da lunedì 2 settembre questa galleria sarà interessata da lavori di manutenzione e quindi per i prossimi 5 mesi questo tratto di strada sarà chiuso al traffico in direzione Vasto. L'ANAS ha già diramato un'ordinanza che modifica la viabilità ai lavori. Dureranno fino al 28 febbraio 2025. A causa di questi interventi la corsia in direzione Vasto sarà interdetta al traffico. I veicoli con un peso inferiore alle 7,5 tonnellate saranno deviati sulla statale 17. Gli automobilisti provenienti da Esernia e diretti verso la costa dovranno quindi percorrere la statale 17 e svoltare al bivio per Carpinone, attraversare il paese e proseguire sulla provinciale 47 che porta a Sessano del Molise da dove potranno rimettersi sulla Trignina. Sulla corsia opposta in direzione Esernia la circolazione sarà consentita ma con un limite di velocità di 30 km orari. Per i mezzi con un peso superiore alle 7,5 tonnellate invece il traffico sarà interdetto in entrambe le direzioni costringendo i conducenti a percorsi alternativi lungo la Bifernina e la statale 17 per poi collegarsi alla Fondovalle Trigno. La notizia ha sollevato non poche polemiche tra gli automobilisti che si preparano a mesi di disagi soprattutto per chi vive in Alto Molise e ogni giorno deve raggiungere Esernia per motivi di lavoro o di studio. A Carpinone il sindaco Colitti ha già annunciato l'adozione di misure volte a ridurre al minimo i disagi per la popolazione locale che vedrà il traffico della Trignina passare all'interno del centro abitato. Centro di Carpinone, immaginatevi che lungo questa strada che per di più è a doppio senso di marcia da lunedì passeranno centinaia e centinaia di auto. Il sindaco di Sessano Venditti ha invece sottolineato che sebbene i lavori siano necessari si sarebbe potuta trovare una soluzione meno impattante come l'installazione di un semaforo per il senso unico alternato. Inoltre è evidenziato lo stato precario della provinciale 47 e in particolare dello svincolo ritenuto inadatto a sostenere il traffico aggiuntivo.